I prossimi appuntamenti sono proprio alla luce di quello che dicevo che adesso la cosa che interessa più la popolazione sono le votazioni nazionali, quindi per questa cosa abbiamo già in programma per giovedì 15 con la candidata Brignone del momento Leo Grasso, lista Grasso. Poi andremo avanti con il lunedì 19, prossimo lunedì quindi, con la candidata Elisabetta Foschi per Forza Italia e il 23 abbiamo in programma invece l'intervento del signor Cattoi di 5 Stelle, venerdì 23, tutte alle ore 21. E infine il 26 la candidata per il PD che è Camilla Fabri. Premetto che lo faremo tutti nella sala dell'hotel Flaminio qui a Taverneri di Solungarina, coglie al Metauro. Ecco, prima delle elezioni speriamo di dare una carrellata generale, un quadro generale di tutto quello che la gente può trovarsi di fronte o saranno i loro candidati o meno a seconda loro scelta. Grazie. Grazie. Grazie.